Ragazzi io veramente non so che fare come possiamo andare avanti così Ma che stai facendo ma è pazzo mi stava per prendere il sangue mi stava partendo come un vero bambino Avevo sete Ma non puoi prendere il sangue da me Scherzo Sofì Sofì Dove cavolo si è cacciata la cacciofina? Perché non è mai qui quando la cerco? Sofì dove sei? Questa giornata inizia proprio nel peggiore dei modi Alla ricerca di Sofì La Sofì dispersa Ciao Sofì Che cavolo hai fatto i capelli ma soprattutto come sei vestita? Sono normale non vedi? Sono soltanto me stessa E poi perché mi fissi? Non ti hanno mai detto che chi fissa troppo diventa cieco? Cosa? Scherzo Ma sai che il tuo vestito mi ricorda proprio qualcuno? Magari ti ricorda me stessa Io sono Ombra La figlia del conte Dracula Chi sei? Lui sei sempre davvero il solito Io sono ombra la figlia del conte Dracula Vivo al castello del conte Dracula E tu con Sofì sei venuto lì al castello Ed è stato davvero difficile avervi come ospiti E lo sai gli ospiti dopo tre giorni finiscono male Oh cavolo non credo di aver capito Ragazzi mi sa tanto che la nostra Sofì oggi si crede Ombra Ombra è la figlia del conte Dracula che noi abbiamo conosciuto in Transilvania nel nostro ultimo film Vacanze in Transilvania che ancora per qualche giorno è al cinema Quindi se non l'avete ancora visto dovete assolutamente correre a vederlo perché sono gli ultimi giorni E sicuramente Sofì dopo aver visto il film ecco in qualche modo si sarà addormentata e poi sarà svegliata credendo di essere ombra Questa cosa le succede molto spesso e l'ultima volta ricordate si credeva a Tara Sono Tara figlia di Kahan capo tribù dei pesantosi e il mio compito è proteggere la natura Poi si è creduta anche il signoresse e perfida di tutto Scusa ma per chi parli? Parlo con il Tintroteco stavo vloggando perché siamo youtuber sai tu sei Sofì e fai video Sì vabbè tradotto stai parlando da solo Lo sai che è in Transilvania in una lotta in luna piena A chi parla da solo Viene tolto il naso Ma perché viene tolto il naso? Scherzo Ma basta con questi scherzi da me Stai parlando da solo ammettilo No 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 non sto parlando da solo sto parlando dalla telecamera perché stiamo vloggando Parlare alla telecamera equivale a dire a parlare da solo Lo capisce che io non posso parlare con un oggetto è come se prendessi questa pallina e iniziasi a dire Ciao a tutti io sono ombra È ridicolo Comunque io ti lascio ho tante cose da fare Ciao No 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 ma dove vai? Ok ragazzi la situazione è molto più grave del previsto Sofì si crede ombra ombra mamma mia ombra Ombra è un vampiro Io spero soltanto che Sofì non sia un vampiro Perché i vampiri come sapete volano con i loro canini I canini Non ho controllato se hai i canini Dobbiamo andare a beccare di nuovo ombra e vedere se hai i canini perché quelli sarebbero il segno che è diventato un vampiro Che Sofì è un vampiro e se Sofì è un vampiro è la figlia di me contro te Ecco qui questa è la numero 175 Quindi devo andare più avanti Tolgo l'adesivo e l'attacco per bene Anche perché dopo tutto anche se sono la figlia di un vampiro Segretamente i me contro te mi piacciono E quindi sono anche contenta di avere l'album delle figurine dei me contro te Perché in questo modo posso attaccare tutte le loro foto E poi se devo essere sincera sono anche stata felice di aver fatto un film insieme a loro Perché comunque io sono una fan Ehi ciao ombra che combini? Non vedi? Sto attaccando le figurine del film vacanza in Transilvania E non le sto trovando neanche una mia Che rabbia se non ne trovo ancora un'altra io brucio questo album Scherzo Ma io sono venuto perché volevo controllare ecco Se il tuo sorriso è bello e smagliante come sempre Potresti farmi un bel sorriso così in modo da vedere tutti i denti ecco Ah sì per fortuna ci sono Puoi vedere il mio sorriso? Questo è il mio sorriso Ma qua non stai sorridendo anzi sembri abbastanza preoccupata Non amo sorridere odio sorridere E potresti farmi un sorriso soltanto per me ecco Ho detto che odio sorridere Il massimo del mio sorriso è questo Però non ti posso regalare questa figurina perché devo attaccarla È la numero 84 Ok vabbè non sorridi Però forse hai qualcosa tra i denti Mi sembra proprio di vedere sì che c'hai qualcosa in cui Potresti sorridere un attimo Ho per caso del sangue? Sangue? Perché tu 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 mangi il sangue? Scherzo Allora ok per farti sorridere so io come fare Ci vuole una parzelletta ragazzi Sai qual è il colmo per due scheletri? No Essere amici per la pelle? Beh tecnicamente è impossibile perché due scheletri non hanno pelle È come dire che uno scheletro è pelle e ossa No lo scheletro è soltanto ossa non ha pelle Vabbè ma è una battuta Ok lo prendo come un... non ti ha fatto ridere Ok Sofì Ombra ascoltami è una questione seria Il problema è che... Il problema lo so io qual è Qual è? L'hai capito finalmente che tu non sei Ombra Il problema è che il tuo amico Chicco Sì? È innamorato di me Chicco? Ma che c'entra Chicco in questo momento Sofì? Voi siete molto amici? Sì? Dimmi la verità è così? Sì siamo ottimi amici Ma è così? Lui è innamorato di me? Beh non lo so ecco Se mai dovrebbe essere Chicco a dire i propri sentimenti Lo posso essere io a dire Sì è molto innamorato di Ombra Ma non è questo che conta in questo momento Allora ora serve sapere Ma il mio conto mi darebbe da 1 a 10? Da 1 a 10? Sì E penso che sia innamorato di te 10 Perché sai io... Non sarebbe il mio primo fidanzato No no Io ne ho avuti tanti altri E quindi Non è che mica io non so com'è che ci si comporta con i fidanzati Io lo so Ma no no Ma cosa c'entra adesso dei fidanzati? Eh Sofì Ombra Ascolta Mi sto confondendo Allora c'è un problema Tu non sei Ombra Tu sei Sofì Ma cosa dici? Ma non vedi che sono Ombra? Sofì è così Sì non vedi che siamo diverse? Lei ha i capelli lunghi Non ha la frangetta È vestita di rosa Ed è sempre sorridente Io invece Odio sorridere Sì no È che effettivamente Visti così non vi assomigliate molto Ma il problema È che tu sei così Non sei così Sono stato chiaro? Per niente Ma ora Ti ho detto già di lasciarmi in pace Ho tante cose da fare Bye bye Dove vai? Dove vai? Sofì sicuramente sarà in questa stanza Ma dove sei cacciata? Sofì Sofì Ho bisogno di lei Perché devo parlarle di Chicco? Perché ovviamente non posso dirlo a nessuno Ma io non ho mai avuto un fidanzato Sarebbe il mio primo fidanzato E non so se mi piace Come si fa a capire se un ragazzo ti piace oppure no? Cioè lui È palesemente cotto di me Ogni volta che mi vedeva non riusciva più a parlare Ma devo capire se piace a me Ci vuole qualcuno con cui confrontarmi Lui non ha capito niente Non se non ha saputo neanche darmi un consiglio Sofì Sofì Chi è? Chi chi chiama Sofì? Chi la sta cercando? Perché anch'io la cerco Pensavo di averti già detto di non voler parlare con te Volevo essere lasciata sola Perché sei tornato? Eri tu che chiamavi Sofì No 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 Allora mi sa che c'è proprio un problema Sofì Sei tu Ecco quindi non puoi chiamare Sofì Lui ti ricordi quando nel film ti ha dato uno schiaffo? Sì mi fa ancora male la guancia Allora vattene se non ne vuoi un altro Sbaglio stavi chiamando Sofì Mi sa che anche tu vorresti che tornasse Sofì O no? Sì lo vorrei Quindi facciamo tornare Sofì Tu l'hai vista? Eh sì ecco finalmente ci stiamo capendo L'ho vista E come se l'ho vista? E' proprio vicino a me La vedi? No non la vedo La cerco da mezz'ora No 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 Ma dove vai? L'ho trovata L'ho trovata Eccola Sofì Oh Con i suoi capelli lunghi Eccola qui Eh? Sofì è un ragno? Cioè hai messo il nome di Sofì Ha un ragnetto Beh il ragnetto non lo chiamerei Dopotutto è gigante Guarda qui Wow Mamma ma che schifo Li adoro Sono gli animali più dolci e carini del mondo Animali li chiami? Ma non sono animali Sono insetti Sono animali domestici Tutti dovremmo averne uno in casa Anzi Tutti ne hanno almeno uno in casa Forse non lo sai Ma ce ne sono un sacco Se guardi In ogni angolo della tua casa Sono sicura che troverai almeno una ragnatela E ragnatela significa ragno Oh mamma mia mamma mia Che disgusto Che schifo Ma che cosa dice? Se solo Sofì in questo momento Si rendesse conto Che sta accarezzando un ragno Vi assicuro Che lo lancerebbe via Nella stratosfera Lei ha super paura dei ragni Figurate averne uno domestico Ma proprio non succederebbe mai Questo significa Che ha veramente sbattuto la testa Cioè si crede proprio ombra Al cento per cento Pattumier Portami un succo di sangue Per favore Non so se essere più confuso Del fatto che ha chiamato Pattumier Che non vive a casa nostra O che ha chiesto Un succo di sangue Certo che Pattumier vive qui Guarda che ti ho sentito Questo è il castello Del conte Dracula Non che è mio padre Con mio padre Abbiamo un rapporto Molto complicato Lui non capisce Che siamo diversi Però dopo tutto Quando siete venuti Al castello L'avete fatto ragionare Io vorrei che il castello Del conte Dracula Fosse così E quindi da oggi Mi trasferisco qui da voi Oh no 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 Ma tu non puoi vivere qui Qui potrebbe vivere Sofì E la cameretta di Sofì questa Quindi non può mica stare Stare qua Hai detto Sofì Sofì è qui No no Sofì Cioè non Sofì Ragnetto Sofì intendo proprio Sofì Sofì Non Sofì Vabbè comunque dai Adesso sai di cosa voglio Di cantare E tu mi insegnerai le canzoni Perché nel nuovo film Ci sono quattro nuove canzoni Bellissime Quella che mi piace di più E quella finale Perché mio papà La canta insieme a me Ci diamo la mano E poi c'è anche Pattumiere Siamo tutti lì felici e allegri Piove Quando te ne vai Ma come il sole So che tornerai La notte Buio come se Dai dai Come se fossimo persi In due lontani universi Ma so che mi pensi E che importa se Il cielo forse Non lo raggiungerò Ma non mi serve Se non sei qui con me Ragazzi sinceramente Non avevo mai immaginato Dover cantare questa canzone Con ombra Non è con ombra Con Sofì Continua a cantare Più di un diamante Ogni volta che Tu mi parli E mi guardi E' un colpo di 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 fulmine Come quello che ti ha colpito Eh? Eh niente Scherzo Però questa canzone ragazzi E' veramente bellissima E se volete ascoltarla La versione normale Ecco cantata da me A Sofì Sul nostro canale musicale Me contro te music Ed è stupenda Quindi correte a ascoltarla Ma ascolta Io ho bisogno di togliermi un dubbio Ecco Vorrei tanto vedere Il tuo sorriso Ancora non mi hai fatto neanche un sorriso Dai ci sta Un bel sorrisone Me lo puoi fare Così controlla Se hai i canini Dovon piru Vuoi un sorriso? Si Vai Eh no Si C'è questo è un sorriso Però Un sorriso Con i denti Ma questo non è un sorriso Potrei Potresti smettere di fare queste facce Che fanno veramente paura Ragazzi Io veramente Non so che fare Come possiamo andare avanti così Ma che stai facendo Ma è pazza Mi stava per prendere il sangue Mi stava partendo come un vero bambino Avevo sete Ma non puoi prendere il sangue da me Scherzo Ma che scherzo è? Fingere che mi stavi Ma che di sangue Mamma mia Mi sono sentito veramente Come una presenza Il conte dell'acula È soltanto uno scherzo Ok Ma Ho pensato una cosina Non è che per caso potresti intanto andare di là A fare qualcos'altro Cosa che fanno i vampiri Ecco non so Tipo svolazzare come un pipistrello Pistrello Vado a giocare a Me Contro Te World Ok va bene Allora divertiti Ciao Dai il tuo telefono Pure Va bene Tieni prendi il mio telefono Hai l'aggiornamento del nuovo film? Sì Ho l'aggiornamento del nuovo film Ecco qui Vedi Nella nostra app Me Contro Te World Il nostro gioco ufficiale C'è sia il castello del conte Dracula Ma anche tutti i personaggi Come ombra Ma c'è anche il conte Dracula Pattumier Per figlia Per un attimo ho avuto paura Che non avessi preso il mio personaggio No no l'ho preso ecco quindi vai divertiti Gioca Così parlerò un po' con Sofì anche qui Ok grazie Forse ho avuto un'idea Ovvero stare al gioco Forse se faccio credere che Sofì è veramente ombra A un certo punto si renderà conto che non è veramente ombra Mamma mia sono confuso E per farlo potrei trasformarmi nel conte Dracula Fingere di essere il padre di Sofì Cioè il padre di ombra Ok vabbè non so se avete capito Ma ragazzi mi raccomando continuate a seguire le nostre avventure E ci vediamo domani con un nuovissimo video Ciao